Salve amici, sono Placido Salamone e vi parlo dal punto vendita a Casa Leni Natural Bio di via Vittorio Emanuele 77 a Santo Stefano di Camastra. Come di consueto vi proponiamo anche oggi una novità, una Niumetri nel nostro punto vendita e vi proponiamo i carciofi, la nostra linea ai carciofi e nello specifico il condimento dei carciofi spinosi di Sicilia. In due varianti, una con pomodoro e un'altra senza. Il condimento di carciofi spinosi è realizzato con carciofi siciliani provenienti dalla Valle dell'Imera, esattamente dalla zona di Cerda. Qui raccogliamo, qui i nostri partner ci forniscono questo carciofo dal sapore eccezionalmente dolce e dalle qualità ideali, ottime, soprattutto per i benefici che comporta il livello risolutivo. Il condimento dei carciofi spinosi ricalca un'antica ricetta siciliana a base di cipollotti, oli extravergine di oliva, pomodoro e chiaramente un poco d'acqua per dare un effetto di sugo pronto. Infatti basta semplicemente prendere questo prodotto, messarlo nella pasta, riscaldare un poco ed è subito pronto da servire nella vostra tavola. Quindi vi consiglio sinceramente di provare questo prodotto che è particolarissimo. Ma non è soltanto l'unico prodotto che abbiamo presentato. Voglio anche presentarvi la nostra crema. Questa è una crema salata, molto particolare, ideale per la realizzazione appunto di prodotti come antipasto, come prodotto da presentare in entrata. La crema di carciofi spinosi è un prodotto che può accompagnare tranquillamente i vostri aperitivi e quindi lo consigliamo minimamente perché è un prodotto sano e nello stesso tempo che rispecchia molto anche i sapori e i gusti siciliani. Anche qui troviamo la presenza dei cipollotti, dell'olio d'oliva e del prezzemolo che sono elementi alla base del gusto, dei sapori e della nostra linea di prodotti. Anche questo prodotto vi consigliamo di assaggiarlo e di provarlo perché è veramente gustoso. Terzo prodotto, non ultimo, abbiamo invece poi il carciofi trifolati. Questo rappresenta un prodotto che è nella tradizione noi abbiamo la nostra idea di presentare un prodotto secondo il concetto dell'artigianalità. Sono tutti selezionati, raccolti e curati con la massima attenzione e invasettato in olio extravergine di oliva con l'aggiunta chiaramente anche dell'aceto per rendere il composto sicuro al 100% e con una fase chiaramente che noi mettiamo anche di erba cipollina e di spezie che servono a rendere più gustosa questi sottori veramente da provare. Quindi veniteci a provare. Oggi vi stiamo presentando i prodotti ai carciofi. sono particolarissimi e vi aspetto sempre come tutti i giorni nel nostro punto rendita a Santo Stefano di Gamastra. Ciao! Grazie! Grazie!